trenitalia lo ritiene un adeguamento al numero di passeggeri non è così considerando che la puglia a dicembre è stata oggetto di tagli selvaggi al trasporto ferroviario dovuti volenti o nolenti alla regione non pagante fondi a sufficienza per mantenere tutto il servizio così oltre alla sospensione della foggia manfredonia riaperta con meno treni e soltanto nel periodo estivo 2017 peraltro solo la domenica la barletta spinazzola già martoriata è stata decimata sono stati eliminati una coppia di foggia termoli alla mattina presto e alla sera tardi e anche la gioia del colle spinazzola con il tratto percchetta già tagliato è stata colpita completamente chiediamo che la puglia fornisca i soldi e crei un tavolo urgente per rimediare a questa situazione drammatica si ricorda che sono stati utilizzati ben 12 milioni di euro di fondi regionali sono andati a base semafori con 12 milioni di euro si riaprono due ferrovie giusto per ricordarlo che non si dica che i soldi non ci sono non c'è volontà